Per avere un aspetto di splitter passante, in modo che fili il tuo secondo monitor che volendolo a questo schermo, invece tu dovessi operare per avere il PC. Questo? Esatto, mi vado al monitor e chiamando a quel monitor e all'ATEM la stessa roba. Quindi dopo mi controllo le mie robe, il secondo monitor e direi che entrerai alla fine. No, in realtà ti basta due, secondo me. Adesso se solo ne se, aspetta che fa una roba, da attaccare dentro il topicide, no? Sì. Perché volevo vedere di attaccare dentro, provo a staccarlo un attimo? Tu vuoi vedere? Allora. Qua deve attaccare? Sì. Allora. 25. Save. Ok. Ok. E... Camera 1. Camera 2. Ok. Adesso le ha ritornate. camera 2. Te l'hai il mio piccolo a smottare. Ah, che monna. Per forza, sì. Allora. Camera 1. Adesso trasmetto? Adesso trasmetto. Adesso trasmetto. Adessoаль. ено. Posso mettere un po' di pochino con il tuo più, come se si vede. Adesso fa bene. Adesso la vita Woof, non è su. Adesso la vita. Adesso. Adesso la vita. Non sono il segnale qua, da giù. Dovremo avere la capacità di da giù? Però sto trasmettendo un po', non è uscito. Ah beh, perché sto dicendo che il mio audio sto trasmettendo, bisogna riattaccarsi su YouTube. Sì, è il mio video. Esatto. E' un YouTuber. Sono inoltre in una ricerca, all'anno da te. E' un'altra cosa. 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 Qui, cosa qua la cavo SDI Quindi probabilmente quei adattatori hdmi, sdi, 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 hdmi proteins per 2007 Had bypass gyslicerai Quei li esse asi сделai Pronto Buongiorno Senti Una Grazie. 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 No, ce l'abbiamo. Sì, sì, ce l'abbiamo. Oh, ciao. Va bene. Cazzo, come si fa? Porca vacca, andava a vederlo dal telefonino. C'è un problema. Sì. C'è anche il collegamento per vestire al meglio. Sì. Ma mentre là si dedica il livello di necessità è in dilattica a farlo, è finito orlando di vederlo qua da casa. Sì. Ma è legato praticamente alle due viste con una classe, cioè più classe, ed arriva cento di intime persone collegate, ma lui è la parte dal suo figlio, ma se lo fa dal suo, invece lo è legato, se lo è legato, se lo è legato, se lo è legato, ma lui non lo dà. Ma qualche due le sento forse. Non so. Perché eventualmente bisogneria... Però lui dovrebbe farlo. Perché il che dà qualche l'uno in account. o che... O che... E lui se invida. Cioè te invidi lui. Esatto. Certo. Però a te i sento vinti deve attaccarsi a . A relazionare il contatto. Perché se vedi che... Il capo di Vana la nuova è la sua, la Pola, che la P e i Mi Rio e E N. fra virgolette. Quanti che gli è? Dov'è l'indipendente? si si non è indipendente no no non si fanno la vera lo scusa io lo vedo il giro beato modifico privato pubblico salva ok modifico salvate e io adesso qua vado a vedere dal vivo eccolo qua guarda qua ok non è solo ok ma non una, seconda, si, vota il microfono, ah, ok. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!